e anche per l'ennesima volta di nuovo fuller rank 30 andiamo un po' il Carl penso sia il primo che troviamo speriamo che sia un bene non un male oh dai quella hit sulla gs l'avevo presa gioco per favore non facciamo i popi popi e diciamo che penso di essere nella stessa collezione guarda lo che era questo mi gira intorno ai muretti vabbè si è buttato col gadget lì? no? bravissimo posso ok allora ok Grazie per la visione 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 Niente Grazie per la visione Grazie per la visione